Si è tenuta oggi presso la Sala Gialla del Palazzo dei Normanni a Palermo la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le borse sono promosse dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e finanziata per la prima volta dall'Assemblea Regionale Siciliana. La Fondazione, ogni anno, dal 1994, assegna 10 borse di studio a giovani siciliani laureati in giurisprudenza nell'Università Siciliane col massimo dei voti. Tali borse di studio sono finalizzate a promuovere attività di ricerca a studio sulla criminalità organizzata al fine di favorire lo sviluppo di una cultura antimafiosa nella società, nonché di contribuire al potenziamento dell'azione di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso. Presenti alla cerimonia l'Onorevole Giovanni Aldizzone, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Manfredi Borsellino, Commissario di Polizia di Cefalù e il Professore Giuseppe Di Chiara, Ordinario del Dipartimento di Scienze e Giuridiche della Società e dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Palermitana, nonché componente di commissione nella valutazione dei candidati. Negli anni ho potuto constatare personalmente l'importanza delle borse di studio per coloro che le hanno ricevute, afferma Maria Falcone. Anche grazie al contributo della Fondazione, molti di questi laureati hanno potuto partecipare a concorsi e candidature di rilievo prestigioso, ed oggi molti di questi giovani beneficiari ricoprono ruoli importanti nel mondo del lavoro e in seno alle istituzioni. Ringrazio il Presidente Giovanni Erdizzone, prosegue Maria Falcone, per aver mantenuto l'erogazione delle borse di studio presenti nel panorama dell'offerta formativa siciliana sin dal 1994, come sua personale iniziativa, poiché la legge che le istituì ad oggi non è finanziata. Ecco l'elenco dei vincitori e gli argomenti di ricerca. Costanza Caputo, programma di ricerca Giovani e Mafia, l'evoluzione del ruolo minore nelle organizzazioni criminali siciliane tra profili storico e psicosociali. Claudia Cascio, programma di ricerca Appalti Pubblici, White List e Rating di Legalità, il gioco virtuoso della concorrenza per contrastare l'ingerenza della mafia imprenditrice. Stefania Contino, programma di ricerca La crisi dell'impresa sottoposta a misure di prevenzione patrimoniali, i difficili rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure concursuali nel codice antimafia nella prassi giudiziaria. Fabio Giuffrida, programma di ricerca La criminalità organizzata in materia ambientale, una prospettiva europea. Germina Inzerrillo, regole di giudizio in tema di confisca. Giuseppe Leone, silenzi e omissioni, impegno e lotta dello Stato contro la mafia. Elvira Maiolino, democraticità delle istituzioni politiche e fenomeni di contiguità mafiosa. La repressione penale delle forme di collusione fra Stato e mafia, alla luce del nuovo scenario introdotto dalla riforma dell'articolo 416 ter. Adele Maraventano, green economy e black economy, le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle energie rinnovabili e dello smaltimento illecito dei rifiuti. Cristina Musumeci, mafie e traffico di migranti, la cooperazione con i paesi nordafricani e altre strategie di contrasto. Elvira Puleio, programma di ricerca i reati associativi di stampo mafioso come reati presupposto per l'applicazione del decreto legislativo 231 del 2001, razio e efficacia potenzialità applicative.